Dal secondo posto nel Wordpress Photo all'Orvieto Fotografia 2017 siamo con Antonio Gibotta, ben trovato, davvero una carriera scintillante nonostante un'età ancora giovane. Sì, 28 anni. 28 anni appunto, però hai già tanto da insegnare, hai già tante esperienze nel tuo curriculum, questo possiamo dirlo. Da insegnare, diciamo che la parola insegnare io non la prediligo, mi piace da raccontare, da raccontare è molto più bella. Quanto la fotografia ti aiuta a raccontare, quanto può condensare un racconto? L'ho scelta proprio per raccontare, quindi invece di raccontarla con le parole, spiegando una cosa, mi piace proprio esprimermi attraverso la fotografia, quindi raccontare storie con la macchina fotografica. Andiamo un po' nel dettaglio del lavoro che proporrai qui. Sì, il progetto che presento stasera è il Festival degli Infarinati, che si svolge a Dibi, in provincia di Alicante, Spagna, dove si parla di una guerra dove non ci sono morti, dove non ci sono feriti, ma è una festa gioiosa dove viene raccontata da 200 anni. Hai detto bene, è una guerra in cui non ci sono morti, non ci sono feriti in tanti i tuoi lavori, tu hai raccontato invece il dramma che attraversano i migranti. Il dramma che si vedeva, soprattutto come la rotta balcanica, oppure il viaggio della speranza all'Urd, la storia di Celentano, sono tutti progetti dove c'era tanto dolore. Questo qua invece è totalmente diverso, c'è gioia, è un po' l'opposto di tutti gli altri. Non ti chiedo dei tuoi prossimi progetti, perché sappiamo che sei molto geloso come tanti i tuoi colleghi, però ti chiedo un saluto al FIOF. Sì, un saluto al FIOF e un saluto soprattutto al Presidente, a tutti quanti, a Maria, la Notte, che hanno sempre creduto in me e non mi hanno mai mollato. Nettanto meno io l'ho fatto con loro, quindi correte qua ad Orvieto.